Ciao a tutti, sono Giulia, anche io domenica voterò Lega in Campania perché è giusto valorizzare il territorio, la tradizione, la cultura e l'identità. Pertanto è necessario un cambiamento, la Lega e il cambiamento sono fatti e non parole. Votare è un diritto e un dovere civico e soprattutto votate Lega.